Ora propongo un esercizio che può aiutare quando si prova l'ansia d'abbandono. In quei momenti in cui sentiamo che il cuore ci si sta spezzando, che non riusciamo a sopportarlo, quando sentiamo un forte dolore per la persona da cui si dipende affettivamente. Una cosa che può aiutare in questi momenti è contattare la propria bambina o il proprio bambino interiore. Per facilità in questo momento utilizzo la parte femminile ma naturalmente può essere fatto con un maschio e il bambino interiore. Puoi fare questa costellazione per te stessa o a un tuo cliente. L'adulto che sei oggi trasmette amore al bambino interiore che è nel tuo cuore. Immagina di essere questo personaggio quindi quella più grande e di avere davanti la tua bambina interiore. Metti le mani sul cuore e dici alla tua bambina io voglio che tu sappia che ti amo molto. Sono l'unica che può risolvere quella mancanza che hai tu perché per me sei la persona più importante. Per te provo un affetto infinito. Mi dispiace per tutte le volte che non ti sei sentita all'altezza, per tutte le volte in cui hai pensato di non meritare di ricevere amore. Ti chiedo perdono per averti abbandonata, per non aver saputo amarti diventando adulta. Sono qui per accompagnarti a vedere quel dolore che hai provato quando ti è mancato l'amore di mamma o di papà e quando hai pensato che la tua esistenza fosse in pericolo se non ricevevi quell'affetto che la tua vita non sarebbe stata degna di essere vissuta. Se la mamma e il papà non ti hanno dato quell'amore di cui avevi bisogno da bambina ora posso dartelo io perché ti amo molto. Sono sempre al tuo fianco bambina del mio cuore. So che ora stai passando un periodo difficile, so che stai ancora soffrendo ma non sei più sola. Io sono con te, io, la te adulta, sono la persona che ti ama di più al mondo. Capisco il tuo dolore, capisco che sono dipendente da questa relazione tossica perché tu ti sei sentita abbandonata. Ma voglio che tu sappia che ora io ti trasmetterò sempre molto amore, che non ti sentirai mai più sola con quel dolore. Tu sei una bambina meravigliosa, molto degna di amore, molto degna di affetto. Tu e io saremo sempre insieme. Tu e io saremo unite. Io ti proteggerò e mi prenderò cura di te ogni volta che ti sentirai sola. Questa è la costellazione che puoi fare per la tua bambina interiore quando ha la ferita d'abbandono. Così con questi messaggi d'amore ti stai prendendo cura di te stessa o di te stesso se la fai al tuo bambino. Ti stai coccolando e cambierà la sensazione di disagio o di sentirti sopraffatta. Ti rilasserai, ti riempirei d'amore. Immagina che questo amore che ti stai dando invada tutte le tue cellule, le trasformi, le guarisca. Con questo amore puoi guarire. Con questi messaggi d'amore alla tua bambina interiore, alla tua bambina ferita, la abbracci. E poi abbracci anche quell'adolescente che sei stata, quell'adolescente che si è sentita abbandonata, sola. Abbracciala con molto affetto. Ti fidi di lei, le dai valore, la riconosci e soprattutto sei l'unica che la può amare incondizionatamente. Ripeti più volte questa costellazione e soprattutto ogni volta che sentirai l'ansia da abbandono, da separazione. A poco a poco avrai meno paura del dolore perché scoprirai che è sopportabile. E non solo è sopportabile ma è anche possibile trasformarlo in crescita. Con questi messaggi, con questo amore per te stessa, calmerai quel dolore e poco a poco vedrai come la bambina e l'adulta di oggi si fonderanno. Questa costellazione può aiutare molto quando si è stati trattati male, quando ci si sente molto soli, quando si sente il cuore spezzato.